Signori, Noi è un thrillerino interessante, secondo me ci vorrà un 2 per dare delle spiegazioni a alcune cose, però non è fatto male, diciamo che al momento è un po' surreale, mancano delle spiegazioni, tutto il tempo ti tiene lì comunque, non è che dici uff prendo il cellulare, no no, ti tiene lì, ci sono delle cose che non mi spiego ancora bene, secondo me faranno un 2 e sarà molto interessante, voto 8 meno meno, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e sotto come al solito vi lascerò i link per l'acquisto, un saluto.